Siamo con l'assessore alle città produttive del comune di Manfredonia, Matteo Gentile, di ritorno da Rimini, dove insieme all'assessore Schiavone è stato presente al TTG 2024, dove si è parlato del brand Manfredonia, il brand turismo, con tante iniziative che hanno proposto lì, ma ce lo facciamo dire dalla sua viva voce di cosa hanno parlato a Rimini. Sì, è stata una bellissima esperienza, finalmente Manfredonia è presente in un evento nazionale dove si parla di turismo, è stata un'occasione per stringere rapporti e relazioni anche con altri stakeholder che si occupano di turismo, chiaramente è anche un momento di confronto che ci fa capire che c'è tanto ancora da lavorare e soprattutto ci fa capire quanto è importante la programmazione su cui noi stiamo puntando e stiamo lavorando. Abbiamo presentato sì un progetto, chiaramente dove le imprese del territorio saranno protagoniste, le imprese del territorio sono state protagoniste anche nel tempo, negli anni, infatti è solo grazie a loro che Manfredonia ha potuto beneficiare di innumerevoli iniziative ed eventi che si sono fatti poi in questi anni. Quindi il nostro primo obiettivo, il mio primo obiettivo che mi sono posto in questo periodo è quello di rafforzare questo partenariato pubblico privato, proprio perché crediamo che Manfredonia ha bisogno di un'anima turistica ma anche imprenditoriale capace poi di essere il motore per avviare dei nuovi processi. Sì, è proprio per quanto riguarda avviare, nei prossimi giorni scaderà un bando che riguarda il Natale, credo il 30 ottobre. In questo bando cosa vuol raccogliere il Comune di Manfredonia, visto che ha parlato anche di attività commerciali? Sì, non è un bando, è un accol d'idee per raccogliere proposte e iniziative, appunto, sia da parte delle imprese ma anche da parte delle associazioni del territorio. È un segnale, proprio questo, ci apriamo alla città, ci apriamo alle idee, ci apriamo alle iniziative dal basso. È un momento anche da parte nostra per capire quali sono le richieste e quali sono le necessità delle imprese. Nel prossimo giorno in Manfredonia ci sarà la Puglia University Village, un evento importante dove ci saranno anche politici regionali e ci saranno tanti eventi che si terranno sul porto turistico, se non erro. In cosa consiste? Sì, ecco, anche questo è un altro momento in cui Manfredonia finalmente è presente. È un'attività dove la regione Puglia ha voluto fortemente Manfredonia come città tra le cinque città regionali che sono state selezionate, dove appunto partiranno cinque imbarcazioni a vela, dopo un momento di orientamento dove saranno presenti tutte e sei le università regionali e vedranno la partecipazione di tutti gli istituti scolastici del territorio. una selezione di venticinque ragazzi partirà con barche a vela e poi approderà a Bari dove si terrà uno degli eventi più importanti dell'orientamento in Italia di Dacta. Bene, speriamo che questo sia il primo di una lunga serie di eventi per Manfredonia che porteranno anche il brand Manfredonia in giro per la Puglia e non solo, visto che in provincia di Foggia non oltre un po' una parte del Gargano, il resto è abbastanza a marcia più lente. Manfredonia invece dovrebbe essere il volano della provincia. Su questo, quali altri progetti ci sono nel prossimo futuro? Beh, Manfredonia ha una vocazione, una vocazione di attrarre una vocazione turistica e ce l'abbiamo dentro. Ed è per questo che la nuova fase di programmazione che abbiamo in mente come amministrazione vede protagonisti i cittadini, vede protagonisti le imprese, vede protagonisti le associazioni del territorio. Noi pensiamo che la città ha tanto da offrire. Quello che noi possiamo fare e quello che noi dobbiamo fare è rafforzare questi concetti e soprattutto metterli a sistema. Dare una visione a questo territorio e soprattutto valorizzare quelli che sono i punti forti della nostra città. Pensiamo appunto alla nostra enogastronomia, una nostra enogastronomia che va assolutamente valorizzata anche perché quando poi un prodotto enogastronomico viene valorizzato e salvaguardato correttamente diventa quello, fattore stesso, culturale di un territorio. Quindi sicuramente nei prossimi eventi ci saranno anche delle iniziative che puntano a questo, puntano a valorizzare il nostro prodotto enogastronomico e il nostro prodotto culturale. Grazie.